la oa 35 mm f 0 95 full frame 2 della serie argus vi arriverà a casa in questa bellissima scatoletta tutta colorata di cui non ce ne frega assolutamente niente andiamo a vederci più nel dettaglio il nostro obiettivo super luminoso questo è davvero una chicca prima specifica che salta all'occhio chiaramente è la luminosità f 0 95 che significa che è un sesto di stop più luminoso rispetto a un obiettivo che f 1 mentre rispetto a un obiettivo molto più normale f 1.4 la differenza è di uno stop e un sesto quindi una differenza notevole l'angolo di campo inquadrato è di 63,4 gradi quindi è un normale 35 mm l'obiettivo composto da 14 elementi in 9 gruppi tra cui troviamo anche lenti asferiche lenti a basse dispersioni e altri tipi di vetro speciale il diaframma è impressionante siccome si muove a mano e non automaticamente è stato possibile mettere ben 15 lamelle questo garantisce chiaramente elevata qualità dello sfocato anche chiudendo il diaframma veramente impressionante come il numero di lamelle la messa a fuoco e manuale la lente frontale è da 72 mm l'obiettivo pesa 755 grammi per cui non è proprio leggerissimo ma non è neanche pesante in considerazione del fatto che stiamo parlando di un obiettivo che copre il pieno formato è un 35 mm per cui tecnicamente è un grand'angolo ed è con un'apertura di f 0 95 per cui difficilmente è possibile scendere sotto questi pesi non è comunque un peso eccessivo fondamentalmente pesa come un 35 1 e 4 di sigma ma questo è molto più luminoso per quello che riguarda le baionette disponibili quindi la compatibilità con le fotocamere il mio esemplare che ho in prova è per nikon z ovviamente siamo sui iconisti però è disponibile anche per sony con baionetta e per canon con baionetta r l'obiettivo è completamente realizzato in metallo tutto alluminio compreso il paraluce a petalo che è innestato a baionetta quindi non occupa il filetto il filetto anteriore per il tappo un normalissimo tappo è da 72 mm la ghiera del fuoco è di generose dimensioni è larga da qua fino a qui la parte che si muove abbiamo comunque la possibilità di appoggiare la mano su una parte ferma qui davanti e qui dietro cosa ottima e cosa che non troviamo per esempio sui milvus di zeiss e sì questa cosa me la sono segnata perché veramente da fastidio quella cosa lì qui dietro abbiamo la ghiera per quello che riguarda il diaframma che ovviamente parte da 0 95 e ha gli stop oppure non ha gli stop e questo lo decidiamo noi sul lato troviamo questa levetta che è possibile spostare in questa posizione abbiamo i clic degli stop sono molto morbidi non sono duri assolutamente fin troppo morbidi secondo me e dall'altra parte invece togliamo completamente i clic e quindi la ghiera del del diaframma può aprirsi e chiudersi senza nessun impedimento e senza i clic cosa ovviamente utile per girare dei video in cui vogliamo cambiare il diaframma durante la ripresa essendo manual focus la ghiera del fuoco è una delle caratteristiche principali e più importanti ha una corsa molto lunga e questo ovviamente garantisce un'elevata precisione della messa a fuoco ed è molto ben frizionata un po più dura del normale rispetto altri obiettivi manual focus che ho provato però secondo me questo è un fattore molto positivo perché un obiettivo del genere con una luminosità così elevata richiede una ghiera sia lunga come giustamente hanno fatto ma anche con una certa resistenza alla rotazione in modo che non sia possibile muovere per errore il fuoco ma soprattutto che appena lo si molla rimane perfettamente lì e anche se si sfiora appena appena l'obiettivo questa non gira e quindi non c'è la possibilità per errore di cambiare il fuoco quando magari si è appena terminato di farlo cosa che invece succede con altri obiettivi che a volte hanno la ghiera troppo morbida ben fatto l'owa ottimo lavoro sull'obiettivo troviamo anche la scala delle distanze non ho testato per vedere se è precisa ma sinceramente secondo me serve veramente a poco stiamo parlando di un obiettivo che nasce solo per le mirrorless per cui credo che nessuno lo utilizzi a stima perché fondamentalmente non ha senso utilizzarlo a stima e credo anche che nessuno utilizzi l'indicazione qua per la profondità di campo per scattare magari in iperfocale perché io mi chiedo cosa te lo compri a fare uno 095 se poi vuoi scattare in iperfocale con il diaframma f16 credo che si l'abbiano messa perché giustamente lo rende più completo ma poi nella pratica è solo una cosa bellina da vedere ma non lo utilizzerete mai secondo me ok ma come va questo obiettivo allora vi ho già detto che è abbastanza pesante 7 e mezzo però questi 7 e mezzo sono inevitabili sia per il fatto che è molto luminoso ma anche per la qualità costruttiva davvero elevata non scricchiola è super solido il barilotto quindi sicuramente quella cosa lì incide sul peso però è anche vero che se non fosse preciso dal punto di vista della costruzione delle ghiere e tutto quanto non potrebbe neanche avere prestazioni elevate per cui chiaramente deve essere solido quindi non si può limare sul peso di un obiettivo del genere ma comunque non è eccessivo per quello che riguarda il fattore ingombro direi che operativamente non dà nessun problema ci sta in praticamente qualsiasi borsa quindi zero problemi da questo punto di vista per quello che riguarda il mettere a fuoco che è sicuramente un problema con un obiettivo manual focus io non ho trovato particolare difficoltà chiaramente tante fotografie che uno farebbe con un obiettivo autofocus non le puoi fare con un obiettivo manual focus ma questo è ovvio e non è legato a questo obiettivo un altro obiettivo ma è in generale gli obiettivi manual focus non possono essere veloci come gli obiettivi autofocus il fatto che sia luminoso ci permette di mettere a fuoco facilmente alle brevi e medie distanze di fuoco sulle lunghe distanze di fuoco chiaramente la luminosità non è un grosso vantaggio per mettere a fuoco quindi per la rapidità e capire proprio dov'è la zona a fuoco per cui lì secondo me non offre nessun vantaggio rispetto a un obiettivo più buio però c'è da dire che se mi comprate un obiettivo 0.95 lo fate per lo sfocatore sfocatore che è l'elefante nella stanza e di cui ancora non vi ho parlato l'ho lasciato per la fine quindi chiaramente se lo comprate per lo sfocatore cercherete di avere dei soggetti abbastanza vicini con delle cose poi dietro sfocate per avere il massimo effetto di un obiettivo del genere non andate a fotografare qualcosa a infinito per cui il fatto che sia un po più difficile mettere a fuoco infinito e abbia anche una qualità secondo me inferiore quando andiamo a mettere il fuoco infinito ovviamente non è un problema perché non è il senso di questo obiettivo generalmente se andiamo a mettere a fuoco infinito non teniamo diaframma tutto aperto e quindi chiaramente non serve neanche chissà quale qualità a tutta apertura quando siamo appunto col fuoco a infinito mentre ci interessa la qualità alle medie e brevi distanze quindi diciamo entro gli 8 10 metri per quello che riguarda la qualità d'immagine lascio questa parte alla fine del video dove vedrete dei test anche a confronto con un altro obiettivo 35 mm quindi vi farete la vostra idea su quella che è la qualità dell'obiettivo ovviamente ve lo commento come sempre ma ora parliamo finalmente di quello che è lo sfocato di questo obiettivo secondo me è a dir poco meraviglioso perché lo sfocato è veramente tanto sfocato super burroso ci sono un po di aberrazioni su alcuni punti di sfocato non sono sempre tondissimi però comunque è un obiettivo che ha tanto tanto carattere l'unico vero grande difetto di questo obiettivo è che sopporta abbastanza poco le luci parassite mi è capitato in realtà solo in un caso che ci fosse una luce parassita che creava un flare veramente tanto vistoso e molto fastidioso che ho visto a mirino e ho poi bellamente evitato cambiando inquadratura però quella volta lì effettivamente il flare era enorme vistoso e davvero molto fastidioso chiaramente in altre situazioni meno estreme ci sono comunque dei flare a volte sono fin carini sono fin bellini i flare che ti ti manda dentro e possono essere anche interessanti proprio sfruttare i flare per una fotografia creativa quindi una cosa che è un difetto perché indubbiamente un difetto può diventare un pregio se sfruttato in maniera creativa però è indubbio che la sua resistenza di flare non sia esagerata c'è chiaramente da aspettarselo sia per il fatto che costa appena 600 650 euro una roba del genere ma anche e soprattutto per il fatto che è 1095 non potete aspettarvi da 1095 la resistenza al flare di un obiettivo diverso meno luminoso perché comprare uno 095 di sicuro secondo me non lo devi fare per la luminosità aggiuntiva rispetto un'altra apertura come può essere 1.4 1.8 2 eccetera perché si entra più luce si puoi tenere iso più bassi ma non compri uno 095 per questo lo compri per il suo sfocatone questo obiettivo qui fa il tipico sfocato che ci si aspetta da uno 095 cioè molto burroso molto molto morbido e non perfettissimo per quello che riguarda la rotondità dei pallini che sono abbastanza perfetti in certe situazioni in altre sono un po più distorti però comunque lo sfocato che uno vuole avere con uno 095 per cui secondo me risponde perfettamente alle esigenze di chi cerca un obiettivo con questa apertura quindi se avete bisogno di quel tipo di sfocato quello dello 095 questo obiettivo qui risponde alle vostre esigenze secondo me è molto interessante anche come focale perché un 35 di solito sono tutti più lunghi come focale da una parte un contro perché ovviamente lo sfocato sarà meno intenso rispetto a un 45 un 50 dico 45 perché esiste il 45 di laowa 095 come vantaggio però avrete il fatto di poter fare per esempio dei ritratti ambientati e quindi sfruttare il fatto che è un po più grandangolare e quindi permette una visione un po più ampia chiaramente la scelta della focale tra 35 e 45 sta sicuramente al gusto della persona che poi va a comprare l'obiettivo però per quello che riguarda proprio lo sfocato a mio giudizio risponde esattamente a quelle che sono le necessità di chi compra questo genere di obiettivi per cui se cercate l'obiettivo per lo sfocatone beh questo l'obiettivo per lo sfocatone lo fa e lo fa anche molto bene secondo me rende bene anche chiudendo un po il diaframma questo grazie al fatto che ha 15 lamelle per il diaframma e questa cosa ovviamente permette di avere elevata qualità dello sfocato anche chiudendo un po il diaframma è forse un po un crimine chiudere il diaframma su un obiettivo 095 però se serve si può fare quindi magari che ne so state girando un video vi serve chiudere un pochino il diaframma perché magari avete un filtro nd che non è proprio sufficiente a quello che vi serve e quindi insomma un pochino diaframma si può chiudere e mantenere comunque un bello sfocato sicuramente ma non devo dirvelo io il gioco da fare con obiettivi del genere è mettere un soggetto possibilmente umano perché secondo me questi obiettivi qui sono da utilizzare soprattutto con soggetti umani perché è un po loro bello un po loro gioco no la cosa da fare con questi obiettivi è quella e poi chiaramente qualsiasi cosa ci sia sullo sfondo verrà bellissima morbidissima e quindi vi darà un bel riscontro sulla fotografia finale e avrete una bella immagine con uno stacco dei piani assolutamente notevole per quello che riguarda la nitidezza questo obiettivo qui secondo me non eccelle ovviamente c'è da aspettarselo è un obiettivo che costa poco costa 600 euro 650 euro una roba del genere ed è un full frame quindi insomma stiamo parlando di un obiettivo che costa pochissimo in relazione alle sue caratteristiche quindi a tutta apertura ovviamente non è una lama però non si può neanche dire che sia scarso secondo me il rapporto prezzo prestazioni ci sta tutto vi sfido a trovare uno 0 95 che costi così poco ma soprattutto vi sfido a trovare uno 0 95 che sia un 35 mm non è assolutamente facile ho già provato un altro 0 95 di laowa trovate la prova qui sotto ed è il 33 quello per apsc secondo me dal punto di vista della nitidezza così a occhio e non sono stato a fare confronti diretti quello là è leggermente superiore rispetto questo però poi lo sfocato che ottieni con questo che è full frame è un'altra cosa cioè veramente lo sfocato di un full frame è un altro mondo rispetto uno sfocato della psc per cui secondo me questo è un bello obiettivo da avere se cercate questo tipo di estetica perché non è un obiettivo per tutti gli utilizzi un po come tutti gli obiettivi di laowa difficilmente loro producono un obiettivo tutto fare sono tutti obiettivi per utilizzi molto molto specifici ora passiamo al computer per vedere il confronto tra questo obiettivo 35 mm 0 95 e il mio nick or 35 mm 1.8 a fs quindi un obiettivo per bionetta f che ovviamente ho adattato alla z per fare il confronto come primo test vediamo lo sfocato chiaramente a f 0 95 è molto più sfocato rispetto alle altre aperture ma secondo me questo laowa ha uno sfocato migliore se vedete è più sfocato rispetto al nick or 35 1.8 anche quando sono a pari diaframma quindi appare apertura e quindi questa cosa qui ovviamente se cercate lo sfocatone è sicuramente un vantaggio quindi ha uno stacco dei piani maggiore rispetto al nick or che ho messo nella prova andando a vedere le aberrazioni cromatiche allora nessuno dei due è un campione per quello che riguarda questo aspetto sicuramente a 0 95 ci sono tante aberrazioni cromatiche però insomma è abbastanza normale qui stiamo guardando nello sfocato nelle parti a fuoco non è così evidente quindi c'è sicuramente molto meno il problema nelle parti a fuoco rispetto a quelle sfocate però chiaramente il problema c'è si può risolvere in post produzione io qui ovviamente non l'ho risolto perché sennò non sarebbe un test affidabile se andiamo a vedere le immagini in cui possiamo confrontarli quindi a f 1.8 direi che se la cavolo praticamente allo stesso modo sul laowa lo sfocato è di più l'abbiamo già visto prima e quindi si nota un po di più però comunque se vediamo bene o male la versione cromatica c'è su entrambi a f2 secondo me si comporta meglio il laowa a f28 direi che vanno bene entrambi per cui direi che sono abbastanza pari merito risultati abbastanza prevedibili perché comunque un obiettivo così luminoso un po di variazioni cromatiche non può che averle ce l'hanno anche obiettivi super costosi come quello da 12 mila euro di laica il 50 f 0 95 non ce l'hanno comunque ce l'hanno pochissimo obiettivi un po meno costosi ma comunque costosissimi come il nico 58 millimetri f 0 95 anche lì parliamo però di 8 mila euro qua stiamo parlando di 600 quindi va bene così andando a vedere il dettaglio a tutta apertura non è male assolutamente anche a f 0 95 considerate che la macchina fotografica la nikon che ho fotografato era leggermente inclinata rispetto al piano sensore e ho messo a fuoco sulla k e se andate a vedere la k è molto più nitida rispetto alle altre lettere tra parentesi giustamente perché ovviamente è nel punto di fuoco corretto e mi fa vedere che lo sfocato c'è subito quando siamo a 0 95 basta uscire pochissimo dalla zona di fuoco e si va in uno sfocato sicuramente anche gradevole se stiamo cercando lo sfocato chiaramente andiamo a vedere come qualità e aberrazioni cromatiche per quello che riguarda le aberrazioni cromatiche direi che a 0 95 non è un campione ma me lo aspettavo già da f1 e 8 va decisamente bene poi a f2 è direi perfetto dal punto di vista delle aberrazioni cromatiche e per quello che riguarda invece il nick or a f2 ancora un po di aberrazioni cromatiche c'è anche da dire che è poco diaframmato rispetto alla oa che a f2 è parecchio diaframmato rispetto suo diaframma massimo per quello che riguarda la nitidezza vediamo subito che a f28 chiaramente ha una qualità molto molto elevata c'era da aspettarselo e secondo me è fin superiore a quella del 35 1 e 8 che come saprete già se avete già visto il suo video secondo me è un ottimo obiettivo quindi non è un fondo di bottiglia non è di sicuro il miglior obiettivo che esista al mondo però non è un fondo di bottiglia e in la oa a f28 se la cava decisamente meglio per quello che riguarda gli altri diaframmi andando indietro quindi f2 f1 e 8 direi che continua a cavarsela meglio rispetto al nick or però poi lo vediamo al 200 per cento perché si capisce meglio per quello che riguarda di farmi tutti aperti come vi dicevo secondo me non è assolutamente male però meglio passare al 200 per cento come stiamo guardando adesso andando al 200 per cento vediamo di più i difetti chiaramente non sembra più nitido come prima però si manca al 200 per cento e si vede che comunque non è perfetto a tutta apertura ma comunque l'entitezza è veramente buona io direi che a 0 95 ok non è forse al pari dell'1 e 8 del nick or perché comunque più aberrazione cromatica però come nitidezza ragazzi siamo abbastanza lì e non è che cambi tantissimo direi che già a f1.2 il la oa supera il nick or impostato a 1 e 8 quindi la sua massima apertura se poi andiamo a 1 e 8 è superiore il la oa a 2 è superiore di molto il la oa c'è un bel salto di qualità passando a f2 a 2 8 neanche ne parliamo quindi veramente un obiettivo fatto bene questo di la oa che chiaramente mostra dei difetti a 0 95 ma per 600 euro io credo che non sia assolutamente possibile fare di meglio a meno che la oa non ci smentisca con una nuova versione in futuro che sarà ancora migliore però per intanto direi che non ci si può lamentare di queste prestazioni anche guardando un'altra zona della fotografia sono andato un po più in basso per far vedere la baionetta vedete che i dettagli ce ne sono parecchi già a 0 95 e vanno ad aumentare chiudendo il diaframma direi che secondo me se raccava veramente veramente bene come vi ho già detto nel video poi mi ha messo il disclaimer perché ho detto magari poi non si capisce quello che voglio dire non è un campione assoluto per nitidezza perché se voi volete la nitidezza estrema a tutta apertura non è questo l'obiettivo da prendere ma credo che nessun 0 95 a parte il nick or è un campione di nitidezza tutta apertura ed è normale perché sono dei 0 95 ma non fatevi fregare da queste immagini che lo fanno sembrare peggiore di quello che effettivamente è perché qui c'è tutta l'aberrazione cromatica che chiaramente si può togliere in post produzione io non la tolgo per farvi vedere l'obiettivo nude crudo però chiaramente quando poi voi fate le foto la benvenzione cromatica la togliete e il risultato è decisamente superiore a quello che state vedendo qui comunque io sono rimasto sicuramente sorpreso dal punto di vista positivo di questa serie argus sia di questo che del 33 di apsc perché comunque sono obiettivi veramente validi a un prezzo molto basso e estremamente luminosi come vi ho già detto e voglio ripetervelo ancora una volta non comprate uno 0 95 per la luminosità perché luminosità più come luce che entra in più è una cosa in più che ama non è la sua caratteristica principe comprate uno 0 95 per il suo sfocato burroso e per la capacità di staccare i piani e abbiamo visto che questo obiettivo qui stacca veramente bene i piani anche a parità di diaframma rispetto al nick or cosa sicuramente molto positiva perché se compriamo un obiettivo del genere è quello che vogliamo fare mi pare di aver detto tutto quello che c'era da dire su questo obiettivo avete visto anche le prove avete visto qualche foto insomma spero di essere stato esaustivo se avete ancora qualche domanda scrivetela qui sotto io rispondo a tutti a meno che non li perdo i messaggi ma di solito rispondo a tutti quanti come sempre vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale a seguirmi anche se volete su patreon e ovviamente anche su telegram per insomma chattare in maniera più veloce anche con altri iscritti al canale ciao a tutti grazie e alla prossima